Abbiamo visto degli errori, grossi, errori, errori. Deve credersi che lo abbiamo fatto, noi lo abbiamo fatto soltanto nel convincimento che fosse per il vostro bene, il bene di tutti, esclusivamente. Tutti, tutti, quello che avete chiesto vi sarà dato e colui vi sarà dato sarà mantenuto se si vuole, se vuol essere tutti insieme, liberi, lottari per una riforma democratica, tutti uniti in uno spirito di fratellanza, tutti insieme, tutti reciproca. Veramente io sono, io parlo a nome degli altri, ma sinceramente devo dire che non l'avrei mai creduta capace di autocritica. Grazie. Su, su, allora pace e pasta, visto che avevo ragione. Idea, perché non fate un bel ballo di riappacificazione? Veramente, io preferirei rientrare. Allora, un bel indisi, questo sì. Un bel indisi, questo sì. Adesso, un bel indisi, quest'ボia di riappacificazione? Dec grassroots, facciamo un bel indisi, cal ha Buddha, Mattia? Adesso benvenuti. Sì. 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 I guanti, per favore. Grazie. Un po' più dalla tua, per favore. Piccola sciocca. Sommersima. 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 Sei sicuro che così tornerà l'ordine? Certo, certo che sono sicuro E gli altri che cosa diranno? Che importa quello che diranno In fin dei conti li paghiamo, no? Quindi è chiaro che diventano roba nostra Grazie a tutti